Amici di Fano TV, buon pomeriggio e ben ritrovati dallo Stadio Mancini di Fano. Sergio Catalani vi augura una buona partita e un buon campionato. Siamo alla quinta di campionato. Riparte Favo, scatta Gucci, il tocco verso Gucci. Vediamoci, Sivilla libero in aria, Gucci mette nel mezzo, Sivilla e tiro il gol! Andrea! Andrea! Sivilla! 1-0! Sivilla verso Gucci, la palla è buona verso l'ariete di Bagno a Ripoli. Attenzione, dovrebbe essere, vediamo, l'ammunizione al portiere, sì, dovrebbe essere rigore. Parte Andrea, il tiro di Andrea, il gol! Andrea! Sivilla! Punta l'avversario Andrea, fa saperla, è al centro, vediamo fa saperla, c'è Gucci! E c'è Gucci! Gucci! Niccolò! Adesso scusatemi che stavo guardando che... A Sivilla, sto facendo le veci, ecco il gol! Gol! Vittorio! Favo! Luca, con chiacchierelle verso Gucci, Gucci, il tiro di Gucci! E ancora gol! E sono cinque! E la manita! Con Niccolò! Gucci! Fino all'ultimo, finisce la partita, finisce la gara della manita dell'Alma Juventus Fano. Alma Juventus Fano batte a Re Canatese 5 a 0.